Ragazzi, Fonte Focus, non complottista.it, eh? Fonte Focus, ecologia, il buco dell'ozono si richiuderà entro pochi decenni. Si va verso la guarigione completa dello strato di ozono stratosferico che ci protegge da raggi UV. È il più grande successo ambientale di sempre. Ma come, non ci state dicendo che noi uomini siamo la colpa di tutti e che continuiamo a essere testoni? Successo ambientale di chi? Allora siamo stati bravi? È stato l'uomo o è la terra che se ne fotte dell'uomo e in ogni caso si autoripara, si autorigenera? Questa è la prova provata che non c'entra niente l'uomo perché il buco dell'ozono, nonostante che dite che l'uomo è un deficiente che fa solo schifo andando in macchina, non sembra che all'ozono gliene freghi assolutamente niente di quello che facciamo. Tanto è vero, si sta riparando, guarda un po', e noi siamo sempre peggio. come mai...